Buongiorno cari ragazzi, ricominciamo a parlare di nuovo delle proporzioni. Abbiamo visto le proporzioni come A sta a B, come C sta a D. Abbiamo visto la proprietà delle proporzioni, ossia che il prodotto degli estremi, in questo caso A per D, dove questo è un estremo e questo è l'altro estremo, è uguale al prodotto dei medi B per C. Poi in più abbiamo detto ancora che nelle proporzioni possiamo invertire tra di loro i medi e invertire tra di loro gli estremi, così come ci fa piacere, perché alla fine il prodotto dei medi per gli estremi non cambia. Quindi posso scrivere tranquillamente A sta a C come B sta a D, oppure posso ancora scrivere A sta a B come C sta a D. oppure posso ancora scrivere A sta a B come C sta a D. Questa è la fase iniziale, quindi ho visto tutti i modi in cui posso scrivere questa proporzione. Adesso c'è ancora un'ulteriore proprietà della proporzione, si chiama il proprietà del comporre. La proprietà del comporre mi dice proprio questo, che se io ho la mia proporzione A sta a B come C sta a D, posso tranquillamente effettuare A più B, quindi la somma dei primi due membri, sta al primo o al secondo quello che mi piace o quello che voglio, quindi posso fare anche A da A, per esempio, però se scelgo il primo nella parte, nella seconda parte, C più D, deve essere sempre quello di riferimento, il primo, ok? Quindi in questa proporzione che ho fatto, ho sommato questi due e li ho messi in proporzione con il primo termine, e in questo secondo, nel secondo membro, ho sommato i due e ho messo in proporzione con il primo termine. Nulla mi vieta di fare ancora stessa cosa. A più B sta a B, adesso ho scelto il secondo membro, come C più D sta a D secondo membro, e sono sempre equivalenti, quindi valgono sempre queste proprietà, ok? Bene, passiamo appresso, vediamo anche adesso la proprietà dello scomporre. Quindi, se A sta a B come C sta a D, posso applicare l'inverso della proprietà del comporre, cioè la cosa opposta. Quindi posso scrivere tranquillamente A meno B sta ad A come C meno D sta a C. Ovviamente, come vedete, ho preso la prima lettera del secondo membro, nulla mi vieta di fare la stessa cosa ancora, come proprietà del comporre. A meno B sta a B come C meno D sta a D. Quindi, in questo caso, ho scelto la seconda lettera, vedete? Eccola, eccola qua. Ok, e questa è la proprietà del comporre e la proprietà dello scomporre delle proporzioni. Proviamo a vedere adesso qualche applicazione di queste due regolette. Proviamo prima con tutti i numeri, quindi facciamo che 16 sta a 7 come 64 sta a 28. Ok, applichiamo la proprietà dello scomporre ad ambo i membri. Quindi abbiamo 16 meno 7 sta... A questo punto scegliamo o il primo o il secondo. Quindi 16 meno 7 sta a 7, in questo caso scegliamo il secondo termine, come 64 meno 28 sta a 28. A questo punto, facendo le opportune somme, sottrazioni, avremo che 9 sta a 7 come 36 sta a 28. Vogliamo vedere se è corretto quello che abbiamo scritto. Noi che sappiamo? Sappiamo che il prodotto degli estremi è uguale al prodotto dei medi. Quindi scriviamo 9 per 28 e poi scriviamo 7 per 36. 9 per 28 fa 252, 7 per 36 fa 252. Quindi è verificato. Vediamo un attimo se utilizziamo invece il primo termine, quindi facciamo 16 meno 7 sempre, sta a 16, in questo caso il primo termine del primo membro, come 64 meno 28 sta a 64. La soluzione già la sappiamo. Questo è 9, sta a 16, come 36 sta a 64. Vale sempre il prodotto dei medi uguale al prodotto degli estremi, quindi i medi sono 16 per 36, i medi e gli estremi sono 9 e 64. 16 per 36 fa 576, 9 per 64 fa 576. Verificato come l'altro. Ma questi sono semplici calcoli che bene o male ci possono sicuramente aiutare, ma la cosa che ci può aiutare di più è quando ci troviamo di fronte a un'incognita che può essere la x, per esempio. Ma guardate un po' come possiamo utilizzare. Se noi abbiamo una proporzione del genere, per esempio, 15 meno x, già così, sta ad x come 7 sta a 3. Attenzione, questo è un dato di partenza e non ho applicato ancora nulla. Quindi prendiamo una cosa, diciamo che c'è questa proporzione. Ok? Ci dicono, ci danno questa proporzione. Noi che cosa facciamo a questo punto? A questo punto possiamo utilizzare furbamente la proprietà del comporre. Allora che cosa facciamo? Componiamo i primi due termini del primo membro. Quindi facciamo 15 meno x, che sarebbe il primo termine, più x. E qua abbiamo composto il primo termine. Sta, a questo punto facciamolo stare al secondo termine del primo membro, quindi sta ad x come, se il secondo membro è facile, non dobbiamo fare nient'altro che comporre. Quindi 7 più 3 sta, qua la x, abbiamo preso il secondo termine del primo membro, quindi dobbiamo prendere il secondo termine, quindi sta a 3. A questo punto che cosa esce fuori? Esce fuori 15 meno x più x sta ad x come 10 sta a 3. Vedete facilmente che ho utilizzato in modo molto astuto questa proprietà. In questo modo la x, le due x vanno via anche se non conosco assolutamente quale sia il valore della x. Posso tranquillamente cancellarle perché sono una all'opposto dell'altra. E quindi ottengo 15 sta ad x come 10 sta a 3. Quindi posso tranquillamente dire che x è uguale al prodotto degli estremi, quindi 15 per 3 diviso il medio opposto 10. Qui viene 45 diviso 10. Posso semplificare per 5 e viene 9 diviso 2 uguale a 9 mezzi. E ho trovato così il valore della x. Quindi vedete che ho utilizzato la proprietà del comporre per risolvere un mio problema.